Ciao Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo primo video di Minecraft E inizieremo una serie su questo gioco La farò da mobile perchè ho messo il gesso e quindi con la play non ci riesco a giocare Quindi farò video da mobile di alcuni giochi che mi piacciono Oggi inizieremo spero una bella serie Quindi raga mettete like al video E chi sta vedendo il video e non è iscritto si iscriva Magari ogni tanto possiamo portare video con delle persone Iniziamo Dopo distruggiamo quest'albero Poi iniziamo a esplorare un pochino Facciamo i primi utensili Tipo la cetta e la spada Dai rompe Ok Facciamoci Questo è uno stack di legno buono Facciamo questo Anche Cazzo è andato Una crafting table Dov'è il mio legno Oh te vuoi venire Non si mette ecco Facciamo Che faccio una spada Un'accetta E basta Prendiamoci questa Ecco Magari Andiamo Alla ricerca di un posto dove fare la casa Vorrei trovare anche delle pecore Magari Ecco Ce n'è una Vada a uccidere C'è bagato Ma è stato Che cazzo è successo No Va dentro l'acqua No Vai Oh Quel che ci abbiamo trovato Il primo villaggio Ma raga Mi si bagga Ogni tanto Adesso Perché non lo spara Si spara Eccolo Il nostro primo villaggio Raga Oh se magari Un bel villaggio Vediamo se c'è qualcosa Un cazzo Fa entrare A 10G per loro Bellissimo Imprende un po' tutto Un po' tutto Spacco Spacco No Anche Non ci riesco No Pareva che Ci riuscisse Ah Sta cosa è bellissima Una torcia Rompiamola Aspettate raga È un po' Complicato Senta un dito Proviamoci tutte queste librerie Almeno ci prendiamo i libri Che culo raga Avete trovato sto villaggio Penso che Prima notte Ci vivremo Un colpo Bella Sto Bellissimo Per Lo Andiamo a prendere Anche queste cose Ok Stiamo una bella armatura no raga non so buono qua ok qua qua le bombe non cazzo no raga non so buono metti l'armatura subito una bella armatura ok ho solo rubato tutto cioè questo è il primo video dove in pratica esploriamo un pochino questo villaggio dopo nel prossimo video penso di fare una casetta potremmo cioè potremmo fare una casetta andiamo su questa torre raga una torre un po' strana come cazzo faccio salire tu mi dovete spiegare com'è sto dritto come puoi salire su sta scala oh mi sali oh bellissimo guarda facciamo il parkour estremo questo è un pollo sono dei polli tutti due dei polli ecco ecco 10 per noi mi scusi ma c'è un picco laggiù c'è un picco laggiù un altro posto in tempo che direi di di fare una casa vicino a a a sto villaggio ci potrebbe fare comodo ecco stiamo a sto crafting table mi scusi facciamo un po' di parkour l'albero è bello vabbè possiamo distruggire quest'albero visto che sta diventando notte direi di alloggiare su una di queste cose di sistemarci un po' e poi potrei anche concludere il video mettiamo una torcia poi allora raga andiamo a vedere un attimo l'inventario mettiamo questa ci mettiamo dentro i libri mettiamoci dentro tutta la roba ecco 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 pareva che un po' di venivano i libri e mettiamo vabbè un po' di libri ti arrei io ci mettiamo il pane le mele il ferro la lana e raga io direi che posso concludere anche il video lo posso concludere qua spero che il video vi sia piaciuto mettete like mentre intanto spacco queste biblioteche stavo dicendo spero che il video vi sia piaciuto mettete like iscrivetevi guardate quanti cazzo e bella a tutti ragazzi